A me quello che mi dispiace, mi dispiace per questa città e per la società, ma per questa città, poi non voglio fare un altro commento, però è un dispiacere a tutti i giornali non per il calcio, ma per altre brutte cose, credo che questa città non lo merita e noi possiamo essere la pagina pulita del Bari. Vedendo l'Albinolef hanno l'atteggiamento identico sia in casa che fuori casa, cercano di sfruttare queste ripartenze soprattutto sugli esterni dove sono bravi, con Foglio, Girasoli, Cristiano, quindi bisogna stare attenti alle loro ripartenze. L'andata, come hai detto tu, fu una partita strana, un buon primo tempo, poi abbiamo concesso ripartenze all'Albinolef e poi in vantaggio, quindi dobbiamo stare attenti perché avranno lo stesso atteggiamento che hanno di solito anche fuori casa. In passato abbiamo sempre reagito, è quello che mi aspetto anche domani, abbiamo sempre reagito bene dopo situazioni non favorevoli, quella è la mia speranza. La speranza di Torrente che bisogna dire sta in una situazione incredibile. Poveraccio, io lo comprendo e non so che cosa, gli darei qualche cosa, ma io vorrei che soprattutto io sono fiducioso soprattutto nella magistratura, la magistratura ordinaria, soprattutto nel PM Ciro Angelini, che è una persona per bene e così laudato, ma io vorrei che ci mettessi in naso anche un grande tifoso del Bari, che è un grande magistrato, Carlo Maria Capristo, che vorrei che mettessi, perché questa è un'associazione per delinquere, è un'associazione per, e se ci sono giornalisti, arbitri, dirigenti, tutti, tutti, sfasciamo tutto, ma basta che si ricomincia da capo seriamente, seriamente. Con questo non è che il mondo del calcio è stato sempre serio, però non a questa maniera, non a 10 partite, 10 partite del Bari. Guarda queste immagini, queste immagini invece sono di ieri, dove c'è stato il raduno dei tifosi promosso dagli Ultras per l'azionalato popolare, e queste sono le immagini di una tifoseria che ci crede e che sta provando, e credo che sarebbe un caso unico al mondo a salvare la squadra di calcio. Io mi vorrei associare a loro per un fatto semplicissimo, perché io sento come loro questa necessità. Noi dobbiamo salvare il Bari. Io vorrei che il buon Cristian mettesse quello che noi usciamo con il numero, non so se l'hanno messo già in vendita, il giornale, che diciamo, un vecchio detto barese, da Uast si fa il suo aggiusto, dai Uasti si può fare l'aggiusto, e si possono fare, anche se in passato di questi momenti difficili li abbiamo anche affrontati, però non a questa maniera, perché è uno dietro l'altro sono le situazioni, è uno dietro l'altro la situazione. Non so se ne andrò a dire. Certo, sì. Quindi praticamente non è soltanto la questione economica, anzi passa in secondo piano addirittura, un fatto così importante, perché tu sai che io sono più per le sconfitte sportive e non per le sconfitte economiche. Però ad un certo momento, dopo tutto questo disastro che si sta avendo in seno al club ci voleva questo fatto delle scommesse. Ma stiamo a scherzare. Gente che noi, io per primo, non solo ho difeso, ma quando ho messo in evidenza per lealtà, soprattutto sportive. Invece questi ci hanno preso per i fondelli per non dire un'altra parola. Ecco sì, va bene. Con il basso schiena. Va bene. E basta. Dunque, 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 fra poco sfoglieremo il tuo album dei ricordi, perché comunque... Almeno, almeno... Ci rifugiamo nei ricordi, ci rifugiamo nei ricordi. Un po' disintossiccante. Anche perché domani a Bergamo noi giochiamo la partita numero 1500 in B. E questo lo dico anche a beneficio della stampa e dell'informazione, perché ne può fare uso e consumo, è il caso di dire. Anche tu con i tuoi giornali e con la tua Sky. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo magari se c'è un'altra telefonata, perché poi nella seconda parte vorrei dare spazio soprattutto al professore Antonucci per raccontare un po' cose che riguardano il Bionale F Bari, non solo altre curiosità. Fra poco dovrebbe partire anche l'intervista a Romizzi, che gioca domani. Torrente ha annunciato che Romizzi fa il debutto nel Bari. Meno male, speriamo. Vogliamo sentire anche Romizzi? Dobbiamo puntare sopra tu. Ma vabbè, non tocca a me. Io non sono stato mai uno. Allora, prendiamo la telefonata, poi andiamo in pubblicità con Romizzi. Pronto? Ciao Enzo, Leo Damiani. Ciao Leo. Sono per abbracciare Gianni Antonucci e basta. Io non voglio parlare di questo resto, perché Gianni è l'esempio, è un padre per me, anche perché ricorda la storia. È il padre produttivo di noi che abbiamo il Bari. È Leo Damiani che conosci bene? Ho sentito Gianni agitato, noi vogliamo troppo bene. Tra l'ambito della sua persona, noi ricordiamo che il Bari esiste e ci sono tanti tifosi come Gianni. Non voglio dire altro, perché fa bene a dire. Gianni, non ne parlare, è un momento della storia del centenario del Bari. Tu non passerai mai, ricordatelo, perché la città lo sa benissimo. Le persone con me stesso non sono un esempio. Grazie Leo, un abbraccio. Romizzi, sentiamo cosa ha detto. Fatti sentire, fatti vedere, almeno fra persone per bene, vale la pena incontrarsi. Romizzi. Penso che dopo la prima settimana un po' di ambientamento, sto entrando un po' nei ranghi della squadra, sto capendo quello che vuole il mister, quindi se mi darà questa possibilità darò il massimo sicuramente. Ma sì, come mi hanno detto i ragazzi, purtroppo c'è questo tabù qua a Bari che si gioca meglio e ci sono meno pressioni fuori casa che in casa. Dovrebbe essere il contrario. Io essendo nuovo non ho provato né l'una né l'altra, quindi diciamo che è meglio così, ma non saprei dire. Penso che di far legna in mezzo al campo e di recuperare pallone e far ripartire la squadra. Ma non so se potrò reggere diciamo 90 minuti una partita intera, però anche come tipo di giocatore sono un giocatore di corsa, quindi non dovrei avere molti problemi. Però ripeto, molto che non gioco a causa anche dell'infortunio alla spalla che mi ha tenuto fermo durante l'estate e quindi staremo a vedere.